Rinviato al 24 giugno prossimo il processo Marlane, la notizia, resa nota già ieri dallo Sly Cobas, è stata confermata questa mattina a seguito dell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Paola. A determinare il rinvio l'incompleta trasmissione degli atti di convocazione, carenti a quanto pare di alcune pagine, tuttavia bastevoli per inficiare la licita del processo. Uno dei più importanti processi di sempre per morti bianche, dal forte valore simbolico a 30 anni dai primi decessi, slitta ancora e le responsabilità restano tutte da stabilire. 13 indagati, 107 persone coinvolte tra ex lavoratori deceduti o tuttora malati di tumore e 187 parti civili, questi i numeri di un processo che segue due filoni di inchiesta. Il primo è inerente alla morte per cancro di decine e decine di ex operai per presunta contaminazione da componenti cancerogene impiegate nelle fasi di lavorazione. Il secondo è legato alla scoperta, nella zona immediatamente adiacente all'ex stabilimento, di un deposito abusivo di rifiuti nocivi e residui di lavorazione interrati. Nell'udienza, che si è comunque tenuta, sono state messe agli atti le ultime costituzioni di parte civile, ovvero quella della Regione Calabria, della provincia di Cosenza e dei comuni di Tortora e di Praia Mare. Soprattutto la Costituzione del Comune di Praia Mare ha assunto particolare valore simbolico, visto che tra gli imputati risulta anche l'attuale sindaco, Carlo Lomonaco, responsabile del reparto Tintoria dell'azienda di Valdagno dal 1973 all'88. Il Consiglio Comunale ha motivato la decisione definendola un atto dovuto e necessario per consentire ai cittadini di essere risarciti dai danni nell'eventualità che dal processo si accertino condotte illecite e diversamente non risarcibili, qualora il Comune non si fosse costituito entro il termine perentorio dell'inizio del dibattimento. La notizia del differimento del processo aveva destato delusione in tutte le persone che anche questa mattina si sono riunite in cittin davanti al Tribunale. Il timore è che tramite una serie di rinvii possa arrivare la prescrizione, anche se i tempi di slittamento al 24 giugno possono essere ritenuti congrui.